Il prossimo 16 marzo Sofos presenterà all'Unicredit Pavilion un importante evento che chiameremo The End of Ransower. Questo evento porterà all'attenzione di aziende, clienti, dei nostri partner, che cos'è in ransomware, come si genera e quali sono le tecniche che Sofos mette in atto per proteggersi contro questo fenomeno basato essenzialmente sul social engineering. A nostro fianco avremo anche Samsung che presenterà la propria piattaforma Knox integrata nativamente con la nostra soluzione di Enterprise Mobility. Vi aspettiamo quindi il prossimo 16 marzo all'Unicredit Pavilion a Milano.